Presiedere il Comitato per la Festa di Sant'Agata è stato uno dei privilegi più grandi della mia vita. È stato un viaggio entusiasmante che ho percorso insieme ai tantissimi devoti che mi hanno trasferito la loro fede e la loro devozione incondizionata. E ho capito quando questa festa è identitaria, quando questa festa è importante, soprattutto in quelle realtà così abbandonate, così emarginate, che in Sant'Agata vedono un segnale forte di speranza. Quello che ha caratterizzato il mandato del Comitato che ho presieduto è stato totalmente un'azione improntata sul dialogo, sul confronto. Essere un Comitato del popolo, questo ha creato un bellissimo rapporto di armonia, di condivisione, di solidarietà e di fraternità. A San Nicola Arena, in questa bellissima Chiesa, abbiamo realizzato un sogno. Dopo 50 anni le Cantelore rientrano in questo santuario della cristianità e lo fanno con grande festa. E oggi nasce un museo, che è un elemento importante per lo sviluppo turistico di questa città, che tende a sottolineare il patrimonio storico che le Cantelore rappresentano per la città di Catania. Tantissimi sono i turisti e i visitatori che vengono qui per visitare queste Cantelore. E anche in un momento come questo, caratterizzato da una pandemia che non ci abbandona e da una festa che non c'è, in questo luogo si può ancora celebrare con forza la nostra festa di Sant'Agata. Io mi auguro che nei prossimi anni la festa ritorni così bella, così come la conosciamo. Dobbiamo lavorare perché la festa di Sant'Agata ritorni la più importante al mondo. E quindi immaginiamo una festa con tanti elementi di folklore, ma anche di fede e di devozione, soprattutto nei quartieri popolari.